Ergastolo per Giuseppe Pilato, il verdetto della Corte d'Assise di Locri, atteso fin dalla mattinata di ieri, tra emozioni contrastanti di quanti in paese avevano conosciuto Meri Cirillo, è arrivato ieri pomeriggio. Una sentenza accolta con soddisfazione da quanti, il 18 agosto 2014, hanno visto sbriciolarsi una famiglia, la cui serenità è stata cancellata in pochi minuti dalla furia omicida di un uomo che da marito si è trasformato per i giudici del Tribunale di Locri in uno spietato assassino della moglie, 31enne, madre dei loro quattro bambini. Chiusi in un doloroso silenzio i familiari di Meri Cirillo, che non hanno voluto rilasciare alcun commento, nei prossimi giorni verrà fatto un comunicato stampa e la linea, che abbiamo concordato insieme agli avvocati per tutta la durata del processo, ha spiegato il cognato Eros Vasile. Una voce incrinata dalla commozione e dalla consapevolezza che, se anche giustizia è stata fatta, nulla potrà restituire loro la tanto amata Meri, un dolore a cui si aggiunge anche il pensiero ai quattro figli rimasti orfani di mamma e con un papà dietro le sbarre e al quale la consorte, confermando sostanzialmente le richieste del PM Rosanna Squeglia, insieme all'isolamento diurno per tre mesi e l'interdizione perpetua da pubblici uffici, ha stabilito la decadenza della responsabilità genitoriale. Le sentenze si rispettano e qui è stata accertata dai giudici la responsabilità di Pilato e è stato il commento del sindaco di Monasterace Cesare De Leo, che però si dice contrario all'ergastolo perché credo nel recupero della persona. Il mio pensiero, afferma il primo cittadino di Monasterace, è rivolto ai figli, il dramma che è stato provocato loro è enorme. Soddisfatta per la sentenza l'assessore Gabriella Pisano, perché rende giustizia a tutte le donne e le mamme che soffrono e subiscono in silenzio, una condanna esemplare che dovrà rappresentare un monito per l'intera comunità. Forse, in quel momento, il padre marito, accecato dalla gelosia e dalla rabbia, non ha pensato alle conseguenze terribili che quel gesto avrebbe provocato sui quattro bambini. L'invito che rivolgo a tutte le famiglie è che ognuno, prima di pensare a soddisfare il proprio ego, deve riflettere sulle conseguenze drammatiche che potrebbero segnare inevitabilmente il futuro dei propri figli.